Come puoi accedere oggi ai bonus per la ristrutturazione della casa? Se avvii i lavori oggi, mentre sto registrando, sabato 8 aprile, questo è un video che faccio così di getto, non l'avevo programmato, ho preso giusto due appunti per non dimenticare i punti fondamentali e prendo spunto dalla richiesta di alcuni che mi fanno appunto la domanda. Ma se io avvio i lavori oggi, che cosa posso fare? A quale super bonus posso accedere? Ma la cessione del credito, lo sconto in fattura, qualcuno può accedere, qualcuno no, che cosa sta succedendo? Questo video è focalizzato sull'avvio dei lavori oggi, cosa ti permette di fare? Prima di continuare, lascia mi piace, iscriviti al canale e se vuoi supportare il lavoro che faccio online, puoi abbonarti, trovi tutto nelle descrizioni. Se tu oggi avvii dei lavori, sei in condominio, o in un edificio singolo, o in una bifamiliare, qualsiasi edificio già esistente, e stai per effettuare dei lavori di efficientamento energetico, o di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, le cose sono cambiate un bel po'. Per certi versi siamo tornati indietro, a prima di maggio del 2020. Il decreto 11 del 2023 ha modificato il meccanismo, ha eliminato la possibilità di utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura. Mi sono preso alcuni appunti, per non dimenticare tutte le eccezioni, perché ci sono delle eccezioni oggi. Non ti parlo di quelle realtà che hanno già presentato la pratica, perché questo contenuto è focalizzato su chi sta oggi presentando la pratica. Quindi, per forza di cose, non rientra tra coloro che hanno già presentato la pratica prima del 2017. Oggi, presentando una pratica di ristrutturazione, avviando dei lavori di ristrutturazione, banalmente riassumo tutti gli interventi agevolabili con i termini di ristrutturazione. Se questi interventi riguardano anche o esclusivamente eliminazione di barriere architettoniche agevolabili con il 75%, il 119 ter del decreto rilancio, questi interventi possono ancora usufruire anche di cessione del credito o sconto in fattura. Se l'edificio o il soggetto, diciamo, se i soggetti sono OLLUS, istituti autonomi dei casi popolari o cooperative di abitazione, costituite già al 17, allora, avviando i lavori oggi, presentando la pratica oggi, sarà consentito accedere, nei limiti di ciò che richiede la norma, di accedere alle agevolazioni. Se sei un edificio colpito, che è in una delle zone colpite dal terremoto, affardata dal 1 aprile 2009 in avanti, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza, edificio che ha subito dei danni e che accede al contributo per la ricostruzione, su questi edifici sarà consentito agevolare le spese anche concessione del credito e sconto in fattura. Per tutto il resto, quindi per la maggior parte, l'unico modo di fruire del credito maturato da interventi agevolati con la parte di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia, sarà in dichiarazione dei redditi, cioè maturi un X credito stabilito in base alla percentuale del bonus che stai applicando e lo porti in dichiarazione in tot rate annuali, che possono essere 4 del super bonus, 5 del sisma bonus ordinario, 10 del bonus ristrutturazione e dell'eco bonus. Oggi probabilmente partirà anche una corsa all'edilizia libera, una corsa al dichiarare che c'erano stati presi accordi prima del 2017, perché un'altra tipologia di lavori che possono comunque continuare ad accedere alla cessione del credito e sconto in fattura sono quelli di edilizia libera, dove quindi non è previsto un titolo da presentare, i quali sono stati avviati prima del 17 o per i quali sono stati presi accordi prima del 17 febbraio. E bisogna fare una dichiarazione congiunta tra il committente e l'impresa, entrambi dichiarano congiuntamente attraverso un atto notorio a valenza penale che sono stati presi accordi o avviati i lavori prima del 17. Ecco, forse ci sarà una corsa da questo punto di vista, che io me lo immagino già. Per tutto il resto solo in dichiarazione dei redditi, quindi di base sappi che devi avere capienza IRPEF per poter agevolare le spese. Per quanto riguarda in modo specifico il super bonus, oggi il super bonus è al 90%, non ci sono 110, non c'è possibilità di accedere al 110. Quella è stata chiusa con il decreto aiuti quater e il commo 894 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023. È stato chiuso tutto nel 2022, quella finestra che permetteva di mantenere il 110 per tutto il 2023. Il super bonus oggi è al 90%. Per i condomini o per gli edifici di unica proprietà composti da 2 a 4, l'accesso è rimasto lo stesso. Mentre per le unità unifamiliari, le unità funzionalmente indipendenti inserite in un contesto plurifamiliare, ecco per queste ci sono ulteriori tre condizioni, tra le quali quella che probabilmente ti rimane più in mente è quella dei 15.000 euro di reddito di riferimento. Quindi più difficile per le unità unifamiliari, mentre rimane invariato l'accesso per i condomini e gli edifici di unica proprietà. Non c'è possibilità di portarlo in 10 anni. La possibilità di portare in detrazione il super bonus in 10 anni è solo per le spese 2022, quando parliamo del contribuente. Mentre se parliamo del cessionario, sarà consentito al cessionario portare in 10 anni in compensazione il credito maturato, non solo dal super bonus, ma anche da bonus eliminazione delle barriere architettoniche, sisma bonus ordinario, per le comunicazioni fatte entro il 31 marzo scorso. Quindi spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Quindi oggi se te presenti una pratica per accedere al super bonus e ne hai diritto, sappi che lo devi portare per forza in dichiarazione, nella stragrande maggioranza dei casi, e non puoi spalmarlo in 10 anni. 4 sono le rate annuali, quindi devi fare bene i conti con l'IRPEF. Ma questo è un problema per il super bonus perché ha una percentuale molto alta, ma in realtà è un problema anche per gli altri bonus, anche quelli che hanno le percentuali più basse, 80, 70, 65%, spesso la capienza IRPEF non è sufficiente per poter detrarre. E poi potrebbe anche cambiare nel tempo. Ma questi sono problemi dei quali già ti ho parlato diverse altre volte. Uno tra gli obblighi che mi sento di dover citare in questo video è l'obbligo SOA. Nel 2023 c'è l'obbligo dell'attestazione SOA quando i lavori superano i 516.000 euro. Quindi molta attenzione alla questione della SOA, che è stato chiarito in corso di conversione del Decreto 11, che riguarda il singolo contratto. Però, comunque, bisogna fare attenzione. Siamo nel periodo transitorio per la SOA. I primi sei mesi del 2023 sono i mesi nei quali puoi affidare nel contratto con la ditta, eventualmente stessi affidando dei lavori superiore a 516.000 euro, la ditta o ha l'attestazione o dimostra di averla richiesta. Poi però, dal primo luglio in poi, per agevolare le spese o per affidare dei lavori, sarà necessario, per lavori superiori a 516.000 euro, che l'impresa sia in possesso dell'attestazione SOA. Questo è uno degli adempimenti, tra virgolette, nuovi. In realtà non sono nuovi, non è nuovo, è da maggio 2022, che c'è dal 21 maggio. Però, mi sentivo di doverlo sottolineare. Quindi oggi, per concludere questo video, intanto lascia mi piace e sto concludendo. Se non cambia la normativa entro fine anno, il super bonus e tutti gli altri bonus li puoi portare solo in dichiarazione di redditi, tranne per alcune limitate eccezioni che ti permetteranno ancora di accedere a cessione o sconto. Non c'è possibilità di portarlo in 10 anni. E ricordati che dal 2024 l'aliquota scende al 70.